adesso sono entrati nella nuvole loro sono entrati nella nuvole ah no si vedono si vedono sono vicini all'aereo guarda sono prima sono mezzo alla nuvole si sono nascosti dall'aereo ma loro sono sopra sono sopra la nuvole l'aereo invece era adesso sono nascosti nella nuvole sono nascosti adesso si infira sotto l'altra nuvole si è proprio sull'antenna di montaggero si ecco sta passando dietro quei pezzi di nuvolette ok ok Grazie a tutti. 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 Sembra più lunga, più come un sigaro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sembrano o una grossa o due attaccate insieme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sembra una roba quadrata. Stupido vento. Grazie a tutti. Ecco la macchina. Sto muovendo io. Sì, sì. Sì, sembra una piattaforma. Sto muovendo. Sto muovendo. Sto muovendo. Sto muovendo. Buon appetito. Buon appetito. Buon appetito. Forse sono proprio due affiancate. E scendono lentamente? Chiunque la può vedere adesso. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Siamo nel dentro terra di Bordighiera, sopra una località che si chiama Monte Nero, stiamo riprendendo l'oggetto che è sempre sopra la Francia, più o meno in direzione di Monte Carlo. L'oggetto si sposta lentamente verso destra, verso i monti della Francia. Lentamente però è sempre veloce. L'oggetto si sposta l'oggetto. E' perché si sposta. Eh, provo a vedere verso... Sì, hai trovato l'albergo? Allora... Allora... E' un'altra... E' una enorme stella, dicono... Ma... Manda... E' un'altra stella... E' un'altra stella... E' un'altra stella... D'accordo... Va bene, ciao Gianni, ciao, ciao... Sì, ciao... E' un'altra stella è un'altra stella... E' un'altra stella... E' un'altra stella, come mai? Un 100cc! E così ci ha fatto il tuo Baccio? Grazie a tutti.